Buongiorno a tutti, sono Simone De Betta e oggi sono qui per dare un consiglio a tutti gli amici appassionati di Volo Libero che hanno bisogno di un richiamo veramente efficiente che li dia sicurezza in qualsiasi condizione climatica e soprattutto a lunghe distanze. Purtroppo la voce umana non è così potente, o perlomeno non tutti hanno una voce molto potente, io per esempio sono afono, penso che la mia voce non si senta più di 50 metri, in ogni caso anche una voce forte umana quanto si può sentire? 200 metri? 500 metri? Esageriamo un chilometro? Dunque oggi sono qui per consigliarvi il miglior fischietto al mondo da usare come richiamo per papagalli. Signore e signori vi presento il Fox 40, un fischietto il cui suono raggiunge i 2 chilometri di distanza. Vi leggerò alcune recensioni di questo fischietto per chi ve rendiate conto di quanto è valido. Il Fox 40 è un'autentica rivoluzione nel mondo del fischietto. Si presenta a tutti come il fischietto più innovativo e più sicuro esistente al mondo grazie al suo design brevettato a due camere sonore. Prestazioni impeccabili ed affibilità totale fanno dello Shark il fischietto indicato per attività di ricerca, soccorso e salvataggio oltre che per tutti gli sport. Un nuovo mix di materiali che lo compongono? Policarbonato. Il policarbonato resiste agli acidi minerali, agli idrocarburi alifatici, alla benzina, ai grassi, agli oli. E' elastoma. Una speciale gomma che rende soffice il contatto con la bocca e impedisce che il fischietto possa scivolare via dei denti. Emette un suono di 120 decibel, udibile fino a 2 km di distanza, ed è appositamente progettato per essere utilizzato in particolari condizioni atmosferiche. Non so se vi rendete conto 120 decibel quanto sono. Proprio per questo alleggo una tabella. Come potete vedere è maggiore del rumore di un martello pneumatico, addirittura di una discoteca, di un nightclub e di una sega circolare. Paragonato al rumore di una cascata è quasi quello del motore di un jet. Un'altra recensione dice che il primo fischietto è ideato specificatamente per gli spazi aperti. Un altro particolare interessante è che funziona anche con la pioggia. E' facile da utilizzare in quanto basta un soffio, emette senza sforzo un suono imperioso, dice qui, di 120 decibel di potenza che può essere udito per diversi chilometri. Superando rumori ambientali di qualsiasi tipo, disegnato appositamente per le cattive condizioni ambientali. Io direi che questo fischietto è veramente ideale da utilizzare come richiamo per i nostri pappagalli, in quanto è migliore di tutti i fischietti in commercio, precedentemente usati da tutti i volatori, che normalmente sono fischietti per cani, che come sappiamo hanno un dito diverso da quello dei pappagalli. Viene fornito anche con un simpatico cordino morbido da mettere al collo, regolabile per non essere perso. Non ci resta che fare una prova. Ma mia, è incredibile, è incredibile. Sì, è topparsi le orecchie qua. Veramente forte, veramente forte. Come dicevo la recensione, è morbido da appoggiare alle labbra ed è impossibile perderlo. Proprio una conformazione che si incastra bene all'interno dei denti. Adesso sto soffiando piano perché mi sono spaccate le orecchie. Bene, sono soddisfatto di questa scoperta. Effettivamente meglio di questo come potenza non c'è. Ora non mi resta che sperimentarlo in campo aperto. Vi ringrazio per l'attenzione, mi raccomando fatemi sapere nei vostri commenti se anche voi vi siete trovati bene con questo fischietto. Un saluto a tutti, ciao!